Certamente questa legge elettorale, se non riusciremo a cambiarla, ci impone una logica d'alleanza e bisogna farle con i partiti che ci permettono un quadro programmatico e anche valoriale compatibile. Le verifiche le faremo e saranno molto serie. Lei ha capito dove vuole andare a parare Ponte con questa linea di lotta più che di governo? Io credo che abbia un'esigenza di sondaggi, di tema di consenso nel Paese. Io credo invece che il Movimento 5 Stelle debba dimostrare che quel processo di maturazione fatto durante il Conte Vis c'è ancora e ancora là e ancora disponibile al patrimonio del Paese.